In questo primo maggio del tutto particolare, lo chiediamo a Giampiero Fattore della Will di Pescara, cosa la preoccupa maggiormente? Diciamo che oggi è un giorno di festa, ma è una festa praticamente un po' triste perché gli avvenimenti che ci hanno sconvolto sia negli ultimi due anni che ultimamente con la guerra in Ucraina non ci fanno sentire in un giorno effettivamente di festa. La festa del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro precario, il lavoro pericoloso perché tieni conto che l'Abruzzo è una delle regioni che detiene la maglia nera per quanto riguarda le morti bianche. Al 31 dicembre 2021 38 vittime, di cui 9 a Pescara, 11 a Pescara, 10 all'Aquila, 9 a Chieti e 8 a Teramo e quindi praticamente abbiamo tutta una situazione particolare che non ci consente di dire che è un giorno di festa. In controtendenza a quello che dice poi l'articolo 1 della nostra bella Costituzione che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma un lavoro che in questo momento latita. Negli ultimi anni perdiamo quasi mille posti di lavoro ogni anno. Perché secondo lei? Ma li perdiamo perché siamo in una situazione veramente disastrosa da un punto di vista sia economico che sociale. Se tu pensi che 140.000 giovani lasciano il Sud per cercare un'occupazione, per cercare un'occasione di lavoro al nord o all'estero, è tutto dire. Pensa che abbiamo circa 3 milioni di NET, che è l'acronimo di un termine inglese che vuol dire not educational employment or trading. Quindi in NET sono il gruppo di giovani tra i 15 e i 29 anni che ne lavorano, ne studiano e ne seguono percorsi di formazione professionale. Quindi abbiamo 3 milioni di disperati e più abbiamo oltre 7 milioni di persone che attendono il rinnovo dei contratti di lavoro. Per la ventunesima edizione della festa del lavoratore ideale qui in provincia Pescara, che tipo di lavoratori avete selezionato? Allora, diciamo che abbiamo selezionato un gruppo di lavori variegati. Quello che ci fa immensamente piacere è che abbiamo, oltre ai lavoratori delle poste, ai lavoratori dell'edilizia, abbiamo in particolare un lavoratore dell'Ucraina e quindi ci fa particolarmente piacere premiare questo lavoratore che è ovvio che è da circa 20 anni in Italia ma che comunque ha sempre i legami col suo paese, è una vigile del fuoco. Pensa, una ragazza, ne sono soltanto due in Abruzzo, donne che fanno questo mestiere così pericoloso, così importante che dà una dignità e un'importanza al ruolo femminile in questa società.